Asoc a scuola di open coesione è un percorso di didattica innovativa, finalizzato a promuovere nelle scuole i principi di cittadinanza attiva e consapevole, di monitoraggio civico e ricerca dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. Docenti e studenti sono accompagnati dai referenti Asoc e referenti Istat territoriali. L'Istat di Milano ha abbracciato il progetto tre anni fa, accompagnando docenti e studenti in un viaggio che parte dalla differenza tra dato e dato statistico, tra la statistica e la statistica ufficiale, accompagnandoli poi nella navigazione delle banche dati, fino alla narrazione e alla rappresentazione grafica del dato. 9 le classi seguita il primo anno, 5 il secondo, cito l'Istituto Bernini di Meleniano che ha ricevuto una menzione speciale per la portata nazionale del progetto analizzato sia in termini di analisi, pianificazione e di sviluppo. Ogni anno poi ci attende la premiazione finale che nel 2019 si è tenuta al centro di ricerca di Ispra e infine abbiamo presentato con un poster il nostro percorso alla GIS 2019.